Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. La vince Kristoffersen e dopo tanti secondi posti il norvegese si prende una grande rivincita vincendo la medaglia d'oro mondiale, battendo il suo rivale di sempre Marcel Irchir e si può fare lasciare andare in lacrime alla fine della gara. Enrique Kristoffersen se la merita tutta, se la merita tutta questa vittoria perché comunque era una stagione in cui il norvegese aveva sofferto tanto sia in gigante sia in slalom per qualche podio che non era arrivata e oggi invece va a sciorinare una super seconda manche che gli permette appunto di conquistare la gara davanti a Irchir e a Pantou davvero fantastica, fantastica la prova di Kristoffersen molto pulita nella seconda manche riesce a incrementare sull'Uagme Yard davvero bravissimo bravissimo Kristoffersen con una grande potenza, con un grande ordine sbagliando veramente poco, non perfettissima la prova di tutti però alla fine su quella neva rovinata è stato uno dei migliori interpreti probabilmente nella seconda manche. Bene anche Irchir, bene anche Irchir perché non c'era diciamo il gap che c'è di solito probabilmente perché Marseillic era comunque influenzata, era in preda alla febbre aveva la febbre a 39 fino a ieri quindi insomma già avere la febbre, essere influenzata, non essere al meglio comunque ed essere lì nelle prime posizioni e arrivare secondo è veramente soltanto da campioni comunque si vedeva anche a occhio che non aveva la potenza dei giorni migliori oggi in pista Marseillic, questo lo si vedeva assolutamente perché nei giorni migliori comunque Irchir riesce veramente a trasmettere una potenza agli sci che nessun altro sa fare oggi era un pochino più ammorsciato sembrava Irchir comunque ragazzi è influenzato con la febbre che arriva secondo nel gigante e poi ancora comunque la chance domenica di mettersi la medaglia d'ora al collo in slalom terzo Pantucco che era Parimo invece dopo la prima manche Pantucco che paga un pochino nella seconda manche anche grazie a delle belle prove di Christoffersen e Irchir comunque ci stava, ci stava Pantucco che probabilmente partiva con un po' troppo pressione nella seconda manche la pressione gliel'ha messa soprattutto Christoffersen dopo questa manche che ha messo comunque un po' di pressione a tutti probabilmente quarta appunto l'Homme Yard, davvero una buonissima gara per lo Svizzero in rimonta bene anche Schwarz, Schwarz se non sbaglio quinto insieme a Kragnitz davvero bravissimi tutti e due soprattutto Schwarz che recupera una decina di posizioni veramente bravissimo, l'austriaco che si conferma comunque atleta molto polivalente perché oltre ad andare forte in slalom va forte anche in gigante e il suo coach ha detto che va bene anche in discesa quindi insomma Schwarz davvero atleta molto 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 polivalente su cui davvero si può puntare per il prossimo futuro comunque davvero grandissimi questi tre che sono veramente i tre interpreti migliori di questa disciplina erano arrivati loro tre sul podio alle Olimpiadi lì vinse Irce, l'arrivo secondo Christoffersen è terzo quanto oggi invece la vince Christoffersen è l'eterno secondo che si va a prendere meritatamente questo mondiale sono veramente veramente contento per il norvegese perché se lo merita tutto se lo merita tutto soprattutto perché veniva da una stagione comunque dove non aveva raccolto grandissime soddisfazioni poi gli italiani, gli italiani invece arrivano lontano sia Dea Liprandini sia Möng sia Maurbegger con Möng che è veramente influenzato con 39 di febbre anche lui veramente non riesce ad esprimere il suo potenziale al meglio così anche per Dea Liprandini l'ha detto nell'intervista non ero mai stato malato in questa stagione ho preso l'influenza proprio a tre giorni dal mondiale anche lui sfortunato un combattente comunque alla fine riesce se non sbaglia ad entrare nei 20 e Maurbegger comunque riesce a qualificarsi nei 30 fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate ci sono la valanga di un mi piace al video condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ragazzi questi sono tre marziani sono tre marziani Hirscher, Panturot e Christoffers ma soprattutto oggi lo è stato Christoffers comunque sono tre marziani questi sono tre marziani e arrivederci al prossimo video grazie a tutti